Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo, non vedo l'ora di aggerlo. Volevo solo dire che siete la coppia migliore che conosco. Tiamo da morire, Margie. Andrea. Margherita. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? Agli altri o a noi stessi? Scusa. Di cosa? E tu sei felice? Ma che domanda è? Volevo fare la redatrice. E perché hai rinunciato? Una vita fatta di scelta. Cosa è successo a quel bambino? Niente. Sono cinque anni che ho pensato soltanto a te. E tutto quello che riguarda me, sogni, ambizioni, progetti, tutto, passa in secondo piano. Di cosa vuoi? L'evolvervi la nostra fedeltà? Mi ha detto? E' un'unqueina, però si miro è una dittinina. Un'unqueina, però si miro è una dittinina. Dale like